Ciao a tutti, oggi è il mio video e farò presentare un bello che avete già visto con il video di Giorgio. Ovviamente ora mi vedete con il mio video che vi farò vedere ovviamente. Mi cantare molto pensamentale, mi cantare molto pensamentale, al ritmo del corso non lo deixo cantare e cantare non lo deixo cantare al ritmo del corso e cantare 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 Grazie.